Ma con chi stiamo trattando in Libia? Qual è quella Libia che il governo Meloni, o come tutti i governi precedenti, da Minniti in poi, continua a dipingere come un partner indispensabile? La Libia non esiste, non esiste un governo, non esiste la democrazia, ma nemmeno esiste il banale meccanismo della politica. Se servissero altre prove, ieri i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno espresso profonda preoccupazione per il perdurare della crisi politica in Libia e la loro delusione per la mancanza di progressi. In un comunicato rilasciato ieri e ripreso dai media libici, i Paesi membri hanno fermato il loro forte sostegno all'inviato delle Nazioni Unite, Abdurlaie e Batili, per dare, scrivono, nuovo slancio al vacillante processo politico e migliorare la stabilità dei Paesi. Il Consiglio di Sicurezza ha invitato tutte le parti libiche e le principali parti internazionali interessate a dialogare con il viato ONU, in uno spirito di compromesso e in modo trasparente e inclusivo, ribadendo l'impegno a sostenere il dialogo tra libici e lo scopo di formare veramente un governo unificato, cioè veramente riconosciuto in tutto il Paese, in grado di rappresentare l'intero popolo libico. Da febbraio, ormai, anche se non lo scrive nessuno, la Libia è divisa tra due coalizioni politiche e militari rivali. Da una parte c'è il governo di un'internazionale con sede a Tripoli del premier Abdurlaamid da Bahaba, riconosciuto dalle comunità internazionali e appoggiato dalla Turchia. Dall'altra c'è il governo di stabilità nazionale guidato dal premier disegnato Bashaga, di fatto un esecutivo parallelo, basato in Cirenaica, inizialmente appoggiato da Egitto e Russia, ma oggi apparentemente abbandonato a se stesso. I Paesi membri del Consiglio di Sicurezza hanno invitato tutte le parti a mantenere la calma sul terreno, dove è in vigore un cessato il fuoco dall'ottobre del 2020. Gli Stati membri del Consiglio di Sicurezza hanno poi sottolineato l'importanza di condurre un dialogo nazionale complessivo e hanno incoraggiato gli sforzi del Consiglio di Presidenza con il sostegno della Missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana per raggiungere finalmente una riconciliazione nazionale. I membri del Consiglio di Sicurezza sottolineano nel comunicato l'importanza di istituire un meccanismo guidato dalla Libia per determinare le priorità di spesa e garantire con le entrate derivanti dal petrolio e dal gas, il fatto che siano gestite in modo trasparente e responsabile. Infine, i membri hanno chiesto il ritiro senza ulteriori indugi di tutte le forze combattenti e mercenari stranieri nel Paese e la necessità di compiere progressi verso la smobilitazione, il disarmo e il reinserimento dei gruppi armati. Ora, la domanda però rimane sempre la stessa. Ma se la Libia come Stato non esiste, cos'è la Libia di cui tutti parlano? Quella di cui tutti parlano per risolvere il problema, lo dicono loro, dell'immigrazione che definiscono erroneamente clandestina. Cioè, esattamente, a chi stiamo dando i soldi per gestire i centri in cui, lo dice l'ONU e lo dicono le organizzazioni internazionali, vengono illegalmente trattenuti i migranti. Chi sono i referenti libici del programma dell'Unione Europea Frontex? Cioè, se la Libia non esista, significa che non esiste nemmeno la retorica degli ultimi governi. Qualcuno se ne è accorto?